Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori ci sono un chilometro di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Sempre in FIPLi rallentamenti per lavori tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla 1, code per il traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!